Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Il Supremo Re tra i Re ha creato i differenti pianeti e i diversi luoghi dove abitano gli esseri viventi secondo la loro occupazione e le influenze della natura materiale che agiscono su di loro e ha anche creato i loro differenti re e dirigenti. Ripeto la traduzione Il Supremo Re tra i Re ha creato i differenti pianeti e i diversi luoghi dove abitano gli esseri viventi secondo la loro occupazione e le influenze della natura materiale che agiscono su di loro e ha anche creato i loro differenti re e dirigenti. Spiegazione Shri Krishna è il Re che domina tutti gli altri re Ed è Lui che ha creato differenti pianeti per diversi tipi di esseri Anche sul pianeta che abitiamo esistono differenti luoghi di abitazione destinati a differenti tipi di uomini Esistono deserti, distese ghiacciate e vallate situate nelle regioni montagnose E in ognuno di questi luoghi vivono differenti tipi di uomini nati sotto differenti influenze materiali secondo le loro attività passate I nomadi che vivono nel deserto d'Arabia gli abitanti delle montagne imalaiane e gli abitanti del polo differiscono tra loro Similmente esiste tutta una varietà di pianeti che offrono condizioni di vita differenti Per esempio ci sono pianeti situati più in basso della Terra fino al pianeta chiamato Patala e tutti sono popolati da esseri differenti Contradiamente a ciò che credono gli scienziati moderni nessun pianeta è disabitato A questo proposito il Signore afferma nella Bhagavad Gita che gli esseri viventi sono che gli esseri viventi sono Sarva Gata cioè sono presenti in tutte le sfere di esistenza Così non c'è dubbio che anche gli altri pianeti siano abitati e talvolta anche da esseri più intelligenti e più ricchi di noi Le condizioni di vita di questi esseri sono più agiate delle nostre sulla Terra Ma esistono anche altri pianeti dove non giunge mai la luce del Sole e dove alcuni esseri sono costretti a vivere a causa delle loro azioni passate La condizione di ogni essere è dunque determinata dal Signore Supremo e Vidura pregò Maitreya di illuminarlo maggiormente su questo punto Il Supremo Re tra i Re ha creato i differenti pianeti e i differenti luoghi dove abitano gli esseri viventi secondo la loro occupazione e le influenze della natura materiale che agiscono su di loro e ha anche creato i loro differenti re e dirigenti Om Agyanati Mirandasyagyananjana Salakaya Chakshunumilitam Yenatasmaye Shri Guravenamaham Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yenabhutalesvayam Rupakadamayam Dadati Swapadamdikam Vandeham Shri Gurao Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitaam Tansa Jeevam Sadvaitam Savadutam Parijanasaitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishnapadam Sadana Lalita Shri Vishakam Vitaam Shcha He Krishna Karunasindho Dheena Bandho Jagatpate Gopesa Gopika Kamta Radha Kamta Namostute Taptakanchanagaurangi Rade Prindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamahmi Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyayevacan Patitanampavanebhyo Vaishnavebhyo Namonam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Shri La Prabhu Padaki Jai Vidura continua con la sua esposizione queste sono domande che porge a Maitreya Rishi ma in queste domande sono contenuti dei concetti filosofici molto importanti che ci danno una visione della realtà molto chiara ma che va al di là della portata dei nostri sensi perché uno dei nomi di Krishna è Adhokchaja che significa colui che è al di là della Aksha è la vista ma intende al di là della vista ma anche al di là della percezione sensoriale e quindi non può essere compreso con i nostri sensi materiali ma può essere compreso prima concepito prima dobbiamo concepire un concetto nuovo è come un figlio prima che nasca bisogna concepirlo e poi comincia a svilupparsi e alla fine nasce ma poi quando è nato non è finito da lì inizia tutto il nutrimento e poi questo figlio cresce si sviluppa fino alla piena maturazione così per avere una visione chiara prima dobbiamo concepire un'idea diversa della realtà e questo concepimento e si diceva ieri del diksha dell'iniziazione che viene data dal maestro spirituale e il maestro spirituale insieme ai veda fanno questa quest'opera di nuovo concepimento nel grembo potremmo definirlo così la mente e la coscienza del discepolo e generano questa nuova visione della realtà che poi va nutrita con shravana kirtan jale karayese chan come dice infatti è proprio un bija no? pramanda bramite konya bhagya vangiv guru krishna prasade pai bhakti latta bij il maestro spirituale dà questo seme e offre anche le modalità attraverso le quali questo seme può crescere può germogliare può crescere e può svilupparsi così queste modalità arrivano a noi attraverso le informazioni degli shastra altrimenti come facciamo a a vedere dio molti dicono fatemi vedere dio e poi ci credo ma tu non puoi vedere dio jai jagannat baladeva shimatesu badraki jai shishonita i gorachandra ki jai non puoi vederlo perché è al di là della portata dei tuoi sensi quindi bisogna sviluppare una sensibilità diversa e così questa queste informazioni arrivano a noi ma per sviluppare la fede necessaria quindi per riuscire a credere il problema non sono le informazioni il problema è riuscire a credere queste informazioni e questa fede si sviluppa a contatto con i vaishnava e con la pratica del servizio di devozione è Krishna che dà l'intelligenza nel cuore del devoto quindi questo nuovo concetto è yais tatua bedar dice il verso tatua bedar bedar vuol dire differenziazione infatti questo è un termine che usiamo spesso perché Chaitanya Mahaprabhu ha portato questo concetto in realtà Chaitanya Mahaprabhu ha reso famoso nel mondo un concetto che è tratto da Madhvacharya quando è passato da Udupi a Cintia beda a beda tatua e così come Chaitanya Mahaprabhu ha reso famosa la Brahma Samita che prima era sconosciuta quindi Chaitanya Mahaprabhu in questo viaggio nel sud dell'India è è andato a a trovare è un lila logicamente perché Chaitanya Mahaprabhu è Krishna stesso ma siccome giocava la parte di un Vaishnava si è vestito da Vaishnava per andare a fare tutte queste scoperte con Ramananda Rai si è immerso in questi lila trascendentali di Krishna la verità più elevata l'amore per Krishna nelle sue forme più intime e poi la Brahma Samita nel sud dell'India dove è affermato Ishvara Paramah Krishna come dice il verso di oggi Adilokanato Adilokanato vuol dire il supremo Adi vuol dire il più il più grande e Lokanato vuol dire Nato è il signore il controllore di tutti i Loka quindi e Tatwa Beda diceva questo concetto Acintia Beda quindi quindi simultaneamente differente Beda a Beda e quindi uguale allora qui questo termine viene utilizzato per esprimere questo concetto che Tatwa Beda quindi in accordo cioè Adilokanato il signore supremo crea questa manifestazione cosmica e i diversi sistemi planetari Lokan Alokan che significa sistemi planetari superiori mediani e inferiori in questi due termini Lokan Alokan tutto l'universo è incluso quindi Tatwa Beda in accordo alla verità di questa differenziazione degli esseri viventi che popolano un universo il signore supremo offre diverse opportunità come se una persona entra in un'agenzia di viaggi in accordo al al budget che può spendere può anche acquistare un biglietto del treno per andare a 100 km di stanza a 500 km di stanza se ha solo 100 euro in tasca se invece a 1000 euro magari si può permettere una vacanza alle Maldive se ne ha 10.000 può fare una crociera di tre mesi in accordo al budget ci sono già ma sono offerte in accordo ai desideri e alla possibilità di soddisfare questi desideri quindi in accordo a Guna e Karma Guna Karma Vibhagasha come dice anche la Bhagavad Gita Chaturvanyam Mayashristam Guna Karma Vibhagasha il Signore Supremo ha creato queste quattro divisioni della società in accordo ai Guna quindi alle qualità che gli esseri viventi hanno e in accordo al Karma che è il sintomo dell'atteggiamento interiore la qualità nelle azioni è l'espansione del nostro atteggiamento quindi l'atteggiamento che noi abbiamo sviluppato nelle vite precedenti fa sì che come il verso è Purusha Prakrites Topi Bunte Prakritir Jan Guna Karanam Guna Sangha Sada Sat Yoni Jan Masu quindi in accordo l'essere vivente Purusha Prakrites Topi entra in questa natura materiale per Bunte Prakritir Jan Gunal per godere della natura materiale e Karanam a causa del Gunasanga dell'associazione con i Guna quindi sviluppa un atteggiamento particolare una sensibilità particolare dei desideri particolari Sat Asat Yoni Jan Masu e prende nascita in forme diverse Sat Asat vuol dire in forme diverse Yoni entra in un utero particolare in accordo a questo a questo Guna che ha sviluppato queste qualità così si ritrova in una nascita diversa rispetto ad altri perché ha il Guna e Karma le qualità che ha sviluppato gli hanno fatto compiere delle azioni e quel tipo di azioni lo promuovono a condizioni di vita superiori o lo declassano a condizioni di vita inferiori no? Quindi è un concetto abbastanza semplice da comprendere e logico ma è un concetto nuovo per l'anima condizionata che viene in questo mondo e non sa nemmeno chi è non sa nemmeno perché esiste quindi il maestro spirituale e le scritture vediche offrono questo concepimento nuovo questa visione nuova della realtà e il verso di oggi espande questo nuovo concetto e dice Adiloh Kanata Shilaprabhapa ha tradotto il re dei re perché il re è il personaggio più importante oggigiorno magari questo termine stride un po' adesso ci sarà mi sembra se non ho capito male l'incoronazione del nuovo re d'Inghilterra ma sono già in molti a dire che questo concetto sta diventando obsoleto finché ha retto la regina magari poteva andare ma adesso con tutte le storie anche che ci sono state le chiacchiere e i gossip degli anni passati insomma questa figura sta un po' scadendo ma comunque Shilaprabhapa usa un termine puoi dire a Jason se va a cantare il giapa fuori perché se continua a passarmi davanti mi distrae quindi Shilaprabhapa dà questo concetto il re dei re per farci capire la potenza del Signore Supremo quindi crea questi differenti loka queste differenti condizioni queste situazioni dove gli esseri viventi possono vivere possono così esprimere le loro emozioni e soddisfare i loro desideri e poi quando noi leggiamo la creazione dell'universo materiale da Brahma e nascono poi tutta una serie di Imanu e inizia questa opera di creazione di popolazione dell'universo e dà incarichi differenti a varie personalità che amministrano l'universo è come lo Stato è come se una persona viene qui per la prima volta non conosce nessuno e pensa che magari può pensare che non ci sia nessuno che sovrintende a questo stabile a questo tempio in realtà chi ci abita sa benissimo chi sono i responsabili chi deve portare avanti le varie cose sembra che tutto si muove in automatico ma in realtà dietro ci sono sempre persone che muovono tutto e così nell'universo sembra che tutto si muova automaticamente ma in realtà Parashashaktir Vividaiva Shruyate Svabhaviki Ghyana Bala Kriya Cia è il Signore Supremo che muove tutto automaticamente tutto si muove automaticamente ma a monte ci sono personalità che hanno dei poteri tali che con un loro desiderio tutto si muove il Signore Supremo è così potente che basta un suo desiderio e tutto si muove ma lo vediamo anche in questa nostra dimensione ci sono persone alla borsa che lavorano alla borsa che con un movimento delle sopracciglia muovono un milione di euro con un movimento di un dito lì hanno tutto un modo di comunicare nelle borse che ha gesti loro si conoscono tutti e se uno fa un gesto così con naso a quell'altro quello capisce che deve vendere 10 milioni in azioni a Tizio e a Caio come si erano già messi d'accordo se invece muove un occhio deve comprare quelle azioni quindi semplicemente con il desiderio e un piccolo movimento si muovono capitali che fanno muovere decine di migliaia e centinaia di migliaia di persone che si muovono in accordo a quei capitali perché le persone vanno a lavorare quindi agiscono perché sanno che alla fine del mese o alla fine della settimana riceveranno un compenso altrimenti il mondo non si muove così l'essere supremo ha questi poteri all'ennesima potenza anzi in realtà gli esseri condizionati hanno questi poteri perché li attingono dalla fonte originale e quindi questo tatua bedar questa differenziazione messa in atto da Adiloka nata è nell'universo si esprime perfettamente ed è così chiara che tutto si muove noi sappiamo che il sole sorge alle 6 e 28 è già stato stabilito prima non c'è ombra di dubbio tutti i pianeti si muovono in modo perfetto e tutto questo avviene svabhaviki ghana bala kriya cia e un concetto che porta lo shirima bhagavatam oggi che noi lo leggiamo diciamo si vidura l'ha detto a maitreya ma se noi vediamo immaginiamo questa scena era vidura sarà stato vestito in modo estremamente semplice perché girava nei luoghi di pellegrinaggio maitreya rishi un sadhu con la barba seduto in meditazione quindi l'immagine che abbiamo sono due persone che stanno parlando niente di più ma i concetti che esprimono sono così elevati che mettono in discussione tutti i più grandi scienziati del pianeta che si sono susseguiti da secoli quindi tutti i più grandi scienziati si sono sempre chiesti ma c'è la vita sulla luna c'è la vita su marte eh no perché non c'è l'acqua siccome qui serve l'acqua allora uno pensa che anche su marte o sulla luna serva l'acqua perché abbiamo dei colpi fatti in un certo modo quindi si ragiona sempre con la mentalità da rana la rana famosa storia che racconta Shula Prabhupad della rana che aveva un'amica che ha visto l'oceano gli ha detto quanto è grande l'oceano due volte il nostro stagno voleva paragonare l'oceano allo stagno quindi il suo metro di misura era il suo misero stagno e la rana l'altra rana diceva non puoi capire quanto è grande l'oceano se lo paragoni allo stagno così gli esseri umani che non hanno concepito non hanno avuto la fortuna di concepire questi concetti e quindi sviluppare questa visione si muovono sempre ai concetti che hanno maturato precedentemente che sono il frutto di speculazioni mentali di sperimentazioni ma fatte sempre con i sensi imperfetti quindi c'è questo grande mistero ci sarà la vita e invece Vidura addirittura che chiede a Maitreya di essere illuminato spiega a lui già che ci sono tutti che l'universo è popolato e Shilapraupa usa questo termine nella spiegazione Sarvagata che trae dalla Bhagavad Gita dove Krishna dice Darjuna Nainam Cindanti Shastrani Accedio Iam Acledio Iam Accedio Iam Adayo Iam Acledio vuol dire che non può essere bagnata o seccata poi dice Nitya è eterna Sarvagata vuol dire che è presente ovunque l'anima è presente ovunque su tutti i piani infatti se noi vediamo all'esterno sembra che non c'è niente poi alzi una pietra e sotto quella pietra ci sono migliaia di insetti a occhio nudo non si vede niente ma se guardiamo anche solo a occhio nudo il sole che filtra i raggi del sole e guardiamo attentamente ci sono un'infinità di esserini che volano poi non fanno mai incidenti è incredibile vedere questi sciami che si muovono così e sono e viaggiano perfettamente questi stormi di uccelli che si che volano migliaia migliaia e seguono un flusso tutto in modo così naturale allora l'anima è salvagatà è nittia eterna salvagatà presente ovunque e stanul è fissa è immobile immobile nel senso che nel termine immobile è accialà vuol dire che è immobile significa che nonostante tutti i movimenti del corpo e dei sensi che si muovono vedono in realtà l'anima non segue questi movimenti di fatto è come uno spettatore che guarda un film nel film ci sono un sacco di movimenti e magari ti fanno anche muovere no? perché una scena di paura ti ti ritrai è una scena divertente e comincia a ridere ma in realtà non c'è niente sono solo delle luci che vengono proiettate e in questo senso l'anima è stanul e accialà è immobile yam sanatana ed è eterna l'anima quindi questi concetti sono concetti importantissimi per un essere umano come facciamo noi a vivere se non sappiamo chi siamo come facciamo a vivere su un pianeta se non sappiamo chi ha messo in moto chi ha messo in orbita questo pianeta come equivale a vivere nell'ignoranza allora noi ascoltando queste informazioni ci liberiamo dall'ignoranza e e possiamo muoverci nel mondo con una visione diversa trasformando i concetti della nostra esistenza cambia anche il nostro atteggiamento cambiano tutti i nostri desideri quindi quello che prima poteva sembrare così importante adesso non lo è più è come un bambino per lui è così importante la bicicletta no? perché ha 6-7 anni e per lui la bicicletta il fratello di 15 anni di quella bici non se ne fa niente lui vuole il motorino vuole un altro mezzo di trasporto il fratello più grande che ormai ha studiato eccetera lui sta già sognando di salire su un aereo e pilotarlo desideri diversi per esseri umani apparentemente uguali ma che poi fanno muovere e fanno compiere azioni completamente diverse così se noi concepiamo una nuova idea dell'esistenza è chiaro che i desideri si trasformano e trasformano anche la natura delle nostre azioni e quindi si agisce molto meno o quasi niente o per niente per il frutto delle azioni mentre prima si agiva solo per il frutto delle azioni e invece si agisce solo per il piacere di Krishna perché scopriamo ascoltando queste informazioni che Krishna è adilokanata e ha creato queste differenziazioni e se noi ci affidiamo a deva deva che è il deva di tutti i deva tutti i nostri problemi saranno risolti tutti i nostri desideri sono soddisfatti tutto il nostro karma come spiega un altro verso della Brahma Samhita Yasvindra Gopa Atavendra Aosva Karma dice tutti gli esseri da Indra il re dei pianeti celesti fino a Indra Gopa il più infinito minuscolo degli insetti sono sono legati Bandhanu Rupa Svakarma dal proprio karma ma Karmani Nirdaha Tikintu Chabakti Bajan Govindam Adipuru Shantamaha Bajani ma colui che invece si dedica a Bhakti Bajan ad adorare il Signore Supremo Karmani Nirdhati viene liberato dal karma che lega tutti gli esseri viventi ma non lega più il Bhakti perché perché Govindam Adipurusham è il Signore Supremo qui Vidura esprime questi concetti riferendosi a Karanadakashayvishnu Garbadakashayvishnu che sono espansioni di espansioni dell'essere supremo primordiale che è Govindam Adipurusham Krishna quindi che dire di chi si abbandona Krishna ottiene tutti i favori del re dei re praticamente come se vogliamo fare l'esempio se vivi in uno stato e diventi amico del re facciamo un esempio perché gli salvi la vita il figlio del re sta andando sotto un carro e una persona salva il figlio del re il re avrà per lui una gli darà dei benefici immensi e prima era una persona ordinaria non conosceva nessuno ma grazie a questa azione si è accattivato le grazie del re e così cambia drasticamente la sua vita così se una una persona che è bandanurup che è legato dalle leggi del suo del proprio karma passato si carmani nirdahati kintu cha bhakti bhajan si dedica al servizio di devozione a Krishna e è libero dal suo karma ecco perché chi si avvicina alla coscienza di Krishna cambia drasticamente il suo karma le sue azioni perché non perché è un ingenuo superficiale ma al contrario ha capito che le azioni migliori e più importanti di tutta la sua esistenza sono le azioni dedicate a Krishna perché solo così si possono risolvere tutti i problemi dell'esistenza perché uno agisce in questo mondo perché vuole risolvere i problemi che ha perché va al lavoro perché vuole risolvere il problema del mantenimento dell'approvvigionamento perché va a spendere un sacco di soldi per andare che ne so a divertirsi qualche po' perché vuole risolvere il problema della noia o della della tristezza e allora investe del capitale per uscire da quella dimensione di sofferenza e così quando si scopre che dedicando a Krishna tutte le nostre azioni ci liberiamo da tutti i problemi e i problemi sono causati dal nostro karma precedente ecco che è molto semplice un ragionamento piuttosto semplice e logico e ci dedichiamo a Krishna perché perché Krishna la Bhagavad Gita dice Nessuna verità mi è superiore tutto su me riposa come perle su un filo e però per acquisire questa fede dobbiamo concepire come si diceva all'inizio una nuova visione della realtà e un altro termine che viene usato importante è usa ancora il termine vedo aciclipattice ha previsto yatrahi certamente sarvasattva e in tutta questa esistenza nikaya gli esseri viventi sono occupati in modo differente usa ancora il termine bedo in fondo perché sottolinea questa differenziazione così noi dobbiamo avere una visione chiara della realtà una meta da raggiungere quindi la meta è la liberazione da questo ciclo del samsara che è in atto in questo universo in differenti forme su differenti pianeti ma dobbiamo avere anche una visione chiara della realtà di come questo universo viene mantenuto e gestito quindi come spiega Sheila Proud nel commento ci sono diversi pianeti e in certe condizioni addirittura non si vede mai la luce del sole quindi chi va a stare su questi pianeti queste sono descrizioni che ci sono sia nel terzo canto ma soprattutto nel quinto canto mi ha spiegato ci sono dei pianeti dove si vive totalmente nell'oscurità e la luce arriva solo da alcuni gioielli che ci sono sulla testa dei serpenti che viaggiano su questi pianeti quindi si vive nel buio più totale e quando c'è la luce arriva l'incubo perché perché i serpenti con queste luci ci vedono molto bene quindi immaginiamo solo a pensarci ci viene da 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 un senso di di sofferenza di tristezza di paura immaginiamoci come può essere vivere in queste condizioni ma per per chi vive sui pianeti superiori la condizione che stiamo vivendo noi sul pianeta terra è di paura perché qui può venire uno tsunami da un momento all'altro può venire un terremoto da un momento all'altro la vita dura pochissimo qualche decennio e tutto arriva la morte la nascita crea una sofferenza enorme malattia vecchiaia cioè per noi che ci abitiamo sembra normale ma per gli esseri celesti è una vita molto vicina a quella infernale e ci sono queste condizioni di buio totale avevo letto un libro di una persona che aveva lei faceva la dentista stava camminando con suo figlio sotto pioveva vicino a un pala pioveva di rotto a un certo punto è arrivato un fulmine e ha ucciso sul colpo il figlio e lei che camminava insieme era praticamente morta l'hanno portata all'ospedale ormai era in una condizione disperata e lei ha lasciato il corpo quindi ha visto questa scena del marito che piangeva insomma questa sofferenza che c'era intorno e poi si è ritrovata in una condizione tremenda in un posto dove le descrizioni sono esattamente come quella dello Srimad Bhagavatam dei pianeti infernali e se ritrovate in un pianeta dove spiegava in questo libro il buio che c'è lì non si può descrivere non ha niente a fare col buio che c'è qui cioè già qui quando c'è buio è buio no lì il buio è diverso è totale è un buio pesto che ti mette in una condizione di sofferenza e si sentono urla ovunque di persone che piangono che urlano e lei si è trovata in questa condizione a un certo punto ha visto dopo poi sentiva le urla dei genitori insomma condizioni tremende e poi a un certo punto ha visto questa luce questo personaggio che ha identificato come Cristo no che l'ha liberata da quella condizione e si è ritrovata nel letto nel è rientrata nel corpo che aveva lasciato quindi da data per morta poi si è ripresa e è guarita insomma si si è ritrovata chiaramente menomata con varie problematiche fisiche ma la sua vita è drasticamente cambiata ha scritto questo libro e si è dedicata poi a diffondere valori spirituali in tutto il mondo quindi vediamo che queste descrizioni che ci sono nello Srimad Bhagavatam poi sono anche provate da varie descrizioni che sono state fatte nel corso dei decenni dei secoli da vari personaggi che hanno avuto visioni trascendentali ma chiaramente non è un qualcosa di ordinario che noi sentiamo tutti i giorni quindi il 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 significa che l'anima è presente ovunque e assume dei corpi su differenti pianeti in accordo al proprio karma se uno ha agito in modo peccaminoso deve scontare le conseguenze del suo karma in pianeti infernali se invece una persona ha agito in modo pio può accedere a dimensioni paradisiache dove può gioire dei frutti di queste azioni queste queste condizioni noi le viviamo anche ognuno le viva anche dentro questi questi demoni che ci sono all'esterno ci sono anche all'interno poi ecco prima sottolineo un altro punto certi personaggi che che stanno impaurendo il mondo ma quanto dureranno anche i ranni Akashipo ha impaurito l'universo intero ma poi è arrivato Nishin Gadeva e ha liberato gli esseri celesti ha liberato per là degli esseri celesti da questa condizione di paura quindi noi vediamo tutti questi personaggi che ci sono oggigiorno che mettono così tanta paura con questi arsenali queste bombe quanto dureranno dureranno poco perché è tutto controllato da Adilokanata dal Signore Supremo ecco perché noi dobbiamo dedicarci al servizio di devozione a Krishna perché è l'unico modo per risolvere tutti i problemi interiori e tutti i problemi che ci sono nel mondo non c'è un modo più potente più efficace di questo ma saremo in grado di farlo se ci liberiamo dai demoni che ci sono all'interno che sono il frutto di esperienze passate quindi si sono concretizzati in questi Anarta in questi ci sono i Samskara e poi ci sono questi questi abitudini che si sono che sono diventate una parte di noi allora il servizio di devozione e la pratica del Bhakti Yoga perché riesce a creare a fare questo miracolo si diceva ieri di questa Dvijatwam di questa iniziazione che il maestro spiritualità e dà il potere al discepolo di trasformarsi in un Dvijya in un nato due volte e poi diventare un Brahmana perché possiamo liberarci da questi condizionamenti interiori che obbligano a commettere attività più camminose quindi un metodo estremamente efficace e potente e dobbiamo imparare ad applicarlo bene perché chi chi è che frena all'interno è tutto così chiaro è così evidente perché una parte di noi è restia chi è che sta mettendo i freni chi è che dice no aspetta sì va bene Krishna va bene ma più avanti adesso pensa anche sentivo ieri qualcuno diceva sta è coi piedi sta coi piedi per terra si dice quando qualcuno è e io gli ho detto sì ma bisogna stare attenti se non va coi piedi sotto terra quindi chi è che che frena sono i nostri ad alta sono le nostre cattive abitudini che ci legano al nostro condizionamento precedente allora ascoltando queste informazioni sviluppiamo una visione diversa e chiara della realtà e con la pratica del bhakti yoga purifichiamo tutti questi samskara precedenti questi anarta e allora poi servire Krishna diventa la cosa più logica del mondo la cosa più semplice del mondo è ciò che dà la maggior soddisfazione perché la vera soddisfazione nella pratica del bhakti yoga arriva quando noi lo pratichiamo veramente il gusto nel canto arriva quando noi siamo immersi solo nel canto il gusto negli shastra arriva quando noi abbiamo sviluppato la fede per ascoltare quelle informazioni leggevo in questo periodo stavo leggendo gli insegnamenti che Chaitanya Mahaprabhu ha dato a Rupa Goswami e poi dopo Rupa Goswami ha incontrato Sanatana Goswami e dà degli insegnamenti così chiari e spiega così in modo così completo la personalità di Krishna la suprema personalità di Krishna e tutte le diverse sfumature della sua onnipotenza e della sua estrema semplicità perché gli abitanti di Vrindavana non vogliono nemmeno sentire dire che Krishna è la persona suprema gli abitanti di Vrindavana vogliono giocare con Krishna e relazionarsi con lui in modo meraviglioso ma Krishna questo pastorello meraviglioso da lui emanano tutte le sue espansioni le varie forme e tutto questo è spiegato perfettamente nella città Neceritamita mi ricordo che l'ho lessi anni fa e non capì praticamente niente in più erano non non mi attraevano questi concetti era troppo complicato e non riuscivo a capire perché io dovevo leggere cose del genere una parte di me la pensava così adesso leggo le stesse cose e provo un piacere enorme quindi il questo questo piacere nella pratica del servizio di devozione arriva quando il maestro spirituale ci da ci benedice con la sua misericordia e così gli anarta se ne vanno questi questi vecchi samskara vengono purificati e allora le informazioni che traiamo dallo Srimad Bhagavatam diventano l'ABC del nostro lieto vivere quindi ci muoviamo in questa con questa nuova coscienza la coscienza di Krishna è questa quindi individuare dobbiamo individuare ogni giorno noi dobbiamo capire cosa si sta muovendo all'interno di noi e e e chiarirlo e e lavorare per purificare quella parte che rema contro la nostra vera evoluzione uno dei metodi è nityan bhagavata sevaya come nasta prayeshva badreshu nityan bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati neshtiki allora la bhakti ascoltando regolarmente lo Srimad Bhagavatam si stabilisce nel cuore come un fatto irrevocabile e possono può venire chiunque dall'esterno anche i grandi scienziati a dirti ma noi siamo stati su Marte adesso tutti che parlano di Marte vedevo un filmato di questo ragazzino russo che ha fatto colpo perché lui diceva di venire da Marte e e quindi dava tutte queste descrizioni di questo pianeta tutti che si meravigliavano ma cosa c'è da meravigliarsi veniamo tutti da un sacco di altre dimensioni quindi basta leggere lo Srimad Bhagavatam è tutto è così chiaro e e quindi questa questa questo nityan bhagavata se vai a leggendo lo Srimad Bhagavatam il servizio di devozione si fissa come un qualcosa di chiaro è irrevocabile e il può dicevo può venire chiunque dall'esterno e noi abbiamo la forza della visione dello Srimad Bhagavatam e può venire chiunque anche dall'interno e impariamo a individuarlo e a a chiarire questi dubbi attraverso lo studio dello Srimad Bhagavatam e il canto del mantra Hare Krishna metodo semplice che ci è stato donato da da questi grandi personalità del calibro di Vidura che poi sono rinate nel Gora Gano Desha Dipika sono spiegati tutti questi grandi personaggi che sono rinati nei Lila di Sri Chaitanya Mahaprabhu e hanno iniziato questo movimento del Sankir che si è diffuso in tutto il mondo quindi questi personaggi continuano a venire in soccorso delle anime cadute e se noi siamo intelligenti prendiamo rifugio in questi insegnamenti e allora la nostra vita può diventare una vita di successo certo è un successo che è difficilmente comprensibile dai materialisti anzi quasi impossibile che loro lo capiscano ma è il vero successo della forma di vita umana è arrivare alla chiara comprensione della verità e questa chiara comprensione può arrivare solo per la misericordia di Guru e Krishna Jai grazie a tutti per l'attenzione Shilla Prabhupada Ki Jai se avete delle domande grazie è già scritto o se mi abbandono proprio con questa risposta ma dovranno questo cioè se c'è la potenza di ecco sì è proprio questo la potenza della Bhakti è tale che è in grado di distruggere il karma presente perché ci sono diversi tipi di karma che vengono spiegati negli Shastra e ci sono anche i semi del karma precedente che sono allo stato latente quindi noi non possiamo vederli la pratica del servizio di devozione riesce a liberare dal prarabda karma che è quello più più semplice più più chiaro ed è già manifesto ok quindi se noi iniziamo il metodo del servizio di devozione questo karma viene subito dissolto ma poi ci sono ma è la punta dell'iceberg l'iceberg la punta e sotto è molto più grande quindi tutto tutto il resto del karma viene è spiegato anche questo molto bene nella cerità e nel cerità amrita ma in tutto lo shirima bhagavata viene gradualmente dissolto dalla pratica del servizio di devozione in accordo alla qualità del nostro servizio quindi Krishna vede la quantità ma soprattutto vede la qualità perché noi possiamo anche cantare sedici giri di giapa per dieci anni ma se continuiamo a cantare commettendo offese nel canto il canto rimane sempre Nama a parada è un canto offensivo che non è in grado di fare granché si brucia un po' di karma ma poi non riesce a entrare in profondità e bruciare il resto del karma che abbiamo che 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 c'è allo stato latente mentre il Nama Bas già riesce a a estirpare un karma maggiore più radicato più nel profondo ma noi dobbiamo ambire ad arrivare a Shuddhanama il nome puro il nome puro è in grado di liberare completamente da tutti i tipi di karma ecco perché se noi ci sforziamo di cantare sotto la guida del maestro spirituale e purifichiamo il nostro canto la via la via è chiara non ci sono non ci sono più avevo segnato una cosa tanti piani uguale tanti scuse l'anima condizionata fa tanti piani nella sua vita in realtà sono tante scuse per non abbandonarsi a Krishna mentre il devoto che canta puramente il mantra Hare Krishna e legge con semplicità e chiarezza lo Srimad Bhagavatam non fa più piani per il suo futuro il suo piano è quello di abbandonarsi a Krishna e lascia nelle mani di Krishna tutto quindi questo atteggiamento dal punto di vista di un materialista è un atteggiamento non di una persona coi piedi per terra quindi i devoti spesso vengono giudicati per malamente dai materialisti perché sembrano dei superficiali dei creduloni dei dei poco di buono vengono giudicati in questo modo ma questo è così dalla notte dei tempi anche Irani Akashipo a Pralat Maraj gli diceva ma tu devi andare a scuola e studiare la logica devi studiare il business devi studiare e Pralat Maraj risponde ma io canto Hare Krishna e questo mi basta e sta cosa l'ha mandata in bestia a tal punto che lo voleva uccidere così ci sono Nishingadeva viene adesso tra qualche giorno ci sarà non questo giovedì non domani il prossimo giovedì ci sarà l'apparizione di Nishingadeva quindi l'apparizione di Nishingadeva è potente nella vita del devoto non solo perché Nishingadeva protegge i devoti dai demoni all'esterno ma protegge i devoti dai demoni all'interno che sono sempre pronti a mettere in dubbio la potenza della pratica del servizio di devozione allora un'esperienza che ho fatto stamattina che voglio condividere che noi dovremmo quando cantiamo partire sì il devoto all'inizio c'è il Nama Parada uno comincia a cantare il Japa e la mente divaga di qua di là non c'è attenzione ma se c'è un impegno da parte nostra dovremmo arrivare a un certo punto dove si comincia a sperimentare il Nama Bas cioè una certa stabilità della mente e la possibilità di ascoltare il mantra con più lucidità e più chiarezza con l'obiettivo di arrivare nei giri conclusivi si spera allo Shuddanama dove c'è solo il mantra e la mente si dissolve quindi noi possiamo fare questa esperienza tutti i giorni quindi il tuo desiderio Alessandra ha fatto questa domanda come fare a bruciare tutti i semi del nostro karma il metodo è molto semplice l'ha portato Chaitanya Mahaprabhu quando danzava in estasi e cantava liberava migliaia di persone che cominciavano a seguirlo e a innamorarsi della Bhakti e a loro volta le persone che avevano incontrato Chaitanya Mahaprabhu andavano nel loro villaggio ed erano in grado di liberare tutte le persone che incontravano perché la potenza del santo nome è questa riesce a a creare questa alchimia e a liberare l'anima da una quantità di karma enorme per noi difficile da comprendere ma questa è la potenza del santo nome ecco perché chi fa queste esperienze la vive in profondità poi scopre che non c'è nient'altro da fare ma non perché non abbia nient'altro da fare ma perché c'è così tanto da fare per arrivare allo Shuddha Nama perché a dirsi è facile ma per arrivare allo Shuddha Nama vuol dire che tu devi imparare a praticare il servizio di devozione devi liberarti da qualsiasi designazione qualsiasi aspirazione che non sia il servizio di devozione Ghyana Karmadya una brità qualsiasi speculazione mentale e qualsiasi azione che non sia in riferimento al servizio di devozione e avere questo atteggiamento positivo di soddisfazione dei desideri di Krishna allora Shinnanam Bhakti Uttama questa è la Bhakti Suprema solo quando si sviluppa questo sentimento interiore si può cantare Hare Krishna con purezza quel canto ha il potere di liberare da tutto il karma e quando arriviamo a questo stato d'animo è chiaro che l'amore per Krishna e l'amore per il canto che abbiamo si traduce ascoltavo ieri in una lezione diceva Bhakti citava Bhakti Vinodhatakur che l'amore per Krishna si trasforma in compassione per le anime condizionate perché quando sperimenti questo piacere e questo stato d'animo così puro quello che vedi in giro è solo contaminazione vedi solo esseri umani confusi che mettono in mostra questo corpo che è un ammasso di roba che nel giro di poco tempo va nel cassonetto della spazzatura si identificano con questo corpo di queste attrici famose tutte con super vestiti gioielli che si fanno fotografare sono completamente identificate con il corpo e tutte le persone che guardano queste immagini si nutrono della loro identificazione quindi sviluppano l'invidia e cercano di seguire queste autorità in materia quindi c'è in giro e magari sono persone milionari miliardari che tutti invidiano invece alla luce di chi ha la visione chiara della realtà fanno pena fanno realmente pena ma questa compassione si sviluppa quando il nostro sentimento d'amore per Krishna prende il posto del risentimento che noi abbiamo nei confronti di Krishna quindi prima sotto la guida agire sotto la guida del maestro spirituale significa questo che il maestro spirituale prima ti dice guarda che ti devi curare dal risentimento che hai nei confronti di Krishna poi potrai capire che cos'è il sentimento e poi potrai sviluppare il giusto sentimento nei confronti di Krishna e dopo potrai sviluppare amore per Krishna ma se prima non accetti il tuo risentimento nei confronti di Krishna pensare di liberarsi dal karma è utopico quindi bisogna seguire il metodo però questo significa sviluppare un concetto nuovo ascoltando lo Srimad Bhagavatam noi cominciamo a vedere quello che potremmo raggiungere e quindi la tua domanda è molto importante perché denota una visione già chiara dell'obiettivo da raggiungere però più questa visione è chiara e più il devoto impara umilmente a seguire le tappe per arrivare alla meta e è possibile questa è la notizia importante di oggi è possibile liberarsi da tutto il karma che ci tiene legati a questo mondo ma solo se riceviamo la misericordia di Sri Chaitanema Apropo bella notizia diamoci da fare uno dei metodi che ci permetterà di raggiungere questa ottenere questa misericordia e andare a fare colazione con il prasala Granthara Shrima Bhagavatam Ki Jai Shrila Prabhupada Ki Jai